Buongiorno bambini e benvenuti per il primo video della lezione di musica. Qualcosa abbiamo già visto e ora andiamo a rivedere un po' di cose e a scoprirne di nuove. Bene, abbiamo scoperto il pentagramma. Il pentagramma è un foglio speciale dove vengono scritte le note musicali e è composto da 5 righe e 4 spazi. Viene letto dal basso dove ci sono le note gravi verso l'alto dove vengono scritte le note acute. Poi abbiamo scoperto la chiave di violino. La chiave di violino è un simbolo speciale che viene posta all'inizio di ogni pentagramma. La sua forma ricorda quella di un fiocco. La chiave di violino viene chiamata anche chiave di sol perché il suo punto di partenza è sul secondo rigo che indica appunto la nota sol. Bene, allora a questo punto non ci resta che scoprire le note. Eccole qua. Le note nei righi. Le note nei righi sono Mi, Sol, Si, Re, Fa. Il Mi abita nel primo rigo. Il Sol abita nel secondo rigo. E dà appunto il nome alla chiave di violino. Il Si abita nel terzo rigo. Il Re abita nel quarto rigo. E il Fa abita nel quinto rigo. Bene, ora conosciamo quelle che abitano negli spazi. Le note degli spazi sono Fa, La, Do, Mi. Il Fa abita nel primo spazio. Il La abita nel secondo spazio. Il Do abita nel terzo spazio. E il Mi abita nel quarto spazio. Bene, ora vi manderò un po' di cosette. E se vi va vi diverterete con me ancora con un po' di musica. Ciao bimbi! Ciao bimbi! Ciao bimbi! Ciao bimbi! Ciao bimbi!